Musica Arrivano da Lipari i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Lorenza Famolaro, la 22enne deceduta lo scorso 23 agosto in ospedale, dopo aver accusato per una decina di giorni i dolori alla schiena e al torace che per i medici erano di origine muscolare. Era il 14 agosto scorso, quando la ragazza si è recata per la prima volta al pronto soccorso e alla guardia medica per una serie di fitte, prima al collo e poi all'addome. Sono seguite altre tre visite, durante le quali nessuno però è stato in grado di dare la diagnosi corretta. Qualcuno aveva parlato di cervicale, altri di una contrattura muscolare, raccontato al compagno di Lorenza Antonio Marino, imprenditore trentenne. La ragazza sarebbe in realtà stata uccisa da un'embolia polmonare massiva che avrebbe portato gradatamente ad un'insufficienza respiratoria sino al collasso, all'interno del pronto soccorso e quindi al decesso. Intanto continua per il quinto giorno consecutivo il presidio organizzato da familiari e amici all'ingresso del nosocommio. Grazie. 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 Grazie.